Cosa è l'HTML? HTML sta per Hypertext Markup Language ed è quindi un linguaggio di markup. Come dicevamo prima, l'HTML non è un vero e proprio linguaggio di programmazione, come per esempio JavaScript, siccome non contiene nessuna logica al suo interno. Piuttosto, l'HTML serve a descrivere i contenuti che compongono un documento. Immaginiamo di voler dare un biglietto di auguri di compleanno a nostra mamma, ma ci siamo dimenticati di spedirlo in tempo. Allora potremmo dire a nostro padre di comprarne uno e di scrivere una poesia che abbiamo composto per l'occasione. Però, visto che siamo dei perfezionisti e sappiamo che nostro padre non è proprio conosciuto per la sua innata capacità di rendere un testo scritto piacevole alla vista, al telefono, oltre al contenuto del messaggio, gli diciamo di scrivere il titolo della poesia in un carattere più grosso, poi scrivere il testo della poesia andando a capo al punto giusto, alla fine di ogni strofa, e infine di firmarlo, cercando di utilizzare la nostra calligrafia. Il compito dell'HTML è quello di riportare i testi insieme alle indicazioni relative a come questi testi debbano essere strutturati, non dal punto di vista grafico, quello è compito del CSS, ma piuttosto del ruolo che i vari testi svolgono all'interno del documento. Si può trattare di un titolo o del contenuto di un paragrafo, di una lista oppure di un link, di un bottone oppure di una casella di input. Per strutturare il testo vengono usati i tag HTML. Questo qui, per esempio, indica che la parte del testo all'interno dei due tags deve essere rappresentata in grassetto. Ora, i tag HTML sono tanti. Alcuni vengono usati spesso, mentre altri raramente o mai. Durante questo corso vedremo i tags principali, e poi, facendo degli esercizi o costruendo delle pagine web, ne vedremo di nuovi, se li incontreremo. Prima di costruire la nostra prima pagina HTML, abbiamo però bisogno di definire il nostro ambiente di lavoro. Lo vediamo nel prossimo video. Prima di costruire la nostra prima pagina HTML,